Ciao a tutti ragazzi, oggi sono su Raving the Redwoods per mostrarvi un nuovissimo fuori mappa scoperto in questi giorni casualmente. Innanzitutto dovrete procurarvi il transponder effettuando 25 uccisioni dalla distanza. Dopodichè andrete sull'isola del Pagapunch. Quando sarete sull'isola semplicemente dovrete lanciare il transponder precisamente in questa posizione. Una volta che l'avrete lanciato vedrete che le vostre granate tattiche sono a zero quindi premerete L1 per teletrasportarvi. Ragazzi sull'isola non ci sono punti in cui gli zombie si possono raggruppare solo sotto il cavo mentre se ne andranno, mentre cercheranno di scappare oppure sulla spiaggia. Quindi semplicemente andrete sotto il cavo e aspetterete gli zombie. Una volta qui sotto gli zombie inizieranno ad arrivare e voi potrete ucciderli tranquillamente senza che vi faranno alcun danno. Potrete anche farli agganciare al cavo ed ucciderli una volta che staranno scendendo giù sulla spiaggia. Con questo Out of Map potrete anche andare dall'altra parte della mappa. Vi consiglio però di non esplorare troppo lontano la zona perché potrete cadere nel vuoto. In questa posizione ragazzi gli zombie si raggrupperanno tutti qui. Per farli spawnare però dovrete andare sulla sinistra di 2-3 metri così vi spawneranno sull'isola e ritornando in questo punto si raggrupperanno tutti davanti a voi. Grazie per la visione! Se il video vi è piaciuto mettete mi piace ed iscrivetevi. Vi ricordo di passare anche dal canale di Caronte75. Ciao a tutti ragazzi! Grazie! 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 Grazie!